Abbiamo fatto questo impianto antincendio, gli impianti di luce d'emergenza, gli impianti elettrici. Questo impianto antincendio proteggerà il palazzo e anche tutte le opere d'arte che sono contenute qui all'interno, quindi davvero andiamo a salvaguardare un bene storico di Chiavere e di Chiavaresi. I tubi, le varie uscite, le cassettine quasi non si vedono? È stato fatto davvero un lavoro eccezionale perché la soppretendenza ha richiesto giustamente anche determinate opere che siano fatte con determinate strutture, con determinati materiali e questo chiaramente ha allungato un attimino i tempi. Volevo aggiungere che abbiamo oltre a investito 150 mila euro all'interno, abbiamo anche investito circa 40 mila euro per la progettazione delle facciate e il progetto lo sta facendo l'architetto Maggi. Siamo a buon punto, ha già fatto il preliminare più o meno e quindi diciamo che a breve questa amministrazione o quella che arriverà, visto che sono le elezioni prossimamente, potrà ricostruire le facciate, rifare le facciate come era un tempo e quindi tutta la struttura ritornerà ad essere davvero una struttura di pregio che l'ha sempre stata ma valorizzata ancora di più. I fondi per farlo ci sono? Una parte sicuramente le accantoniamo anche dall'operazione De Carlo e un'altra parte sicuramente cercheremo di metterla o con fondi propri oppure ci stiamo già attivando con i beni culturali per avere comunque dei cofinanziamenti. Coi tempi come siamo messi? Beh, coi tempi dipende anche lì dalla soprintendenza. Purtroppo la soprintendenza è un ente importantissimo ma anche dei tempi lunghissimi. Questo non vuole essere una critica ma è la verità. Quindi non so se si riuscirà a partire con la ponteggiatura o meno prima delle elezioni ma questo non è importante. L'importante è che poi venga comunque fatto prima possibile. Il progetto delle facciate prevede qualcosa di particolare? No, viene ristrutturato le facciate come era in origine. Il tetto per fortuna è ancora discreto quindi al momento non necessita di interventi. Non abbiamo infiltrazione al momento quindi ci fa risparmiare un po' di soldi che possiamo investire o potranno investire sulle facciate.